Parte la carovana Noab del Gas per contrastare il tentativo di fare dell'Abruzzo e dell'Adriatico un distretto minerario. Nell'iniziativa sono coinvolte quattro regioni, Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, con eventi che iniziano il 6 di aprile e per finire domenica 15 aprile. Due le iniziative che si terranno il 6 di aprile a Termoli e il 7 a Norcia a sottolineare il collegamento e la solidarietà tra le lotte contro i progetti minerari. Un disegno che il Noab del Gas definisce folle, tenendo conto che l'Italia è uno dei paesi al mondo con maggiori rischi ambientali da quello sismico a quello idrogeologico. Tre i percorsi ideati da fare sia in bicicletta che a piedi, che toccheranno i centri interessati da vari progetti estrattivi di trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e convergeranno su Sulmona, dove il 15 aprile si terrà la festa finale di una carovana realizzata per preparare la manifestazione sempre a Sulmona in programma. Sabato 21 aprile. C'è un progetto per far diventare un distretto minerario non solo la nostra regione, ma anche quelle limitrofe. L'intera Italia la vogliono trasformare in un hub del gas, cioè in una piattaforma logistica per fare import e export di idrocarburi verso il nord Europa. A loro rimarrebbero i profitti e a noi tutti i rischi. Ecco, per dire no a un progetto folle che pregiudicherebbe il futuro della nostra regione per decenni. E per quanto riguarda la centrale SNAM di Sulmona, lega ambiente WWF chiedono formalmente a tutti i parlamentari neoeletti in Abruzzo di sollecitare il rinvio della riunione istruttoria sulla centrale, convocata per domani 4 di aprile dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lega ambiente WWF hanno dato mandato all'avvocato Francesco Paolo Febbo di predisporre un proprio ricorso al TAR contro il decreto autorizzativo della centrale e chiedono che la questione venga esaminata dal governo che verrà, il quale dovrà confrontarsi con le istituzioni locali a bocce ferme e non con un provvedimento portato avanti a dispetto di ogni logica. L'Abruzzo ha fatto delle scelte ben precise. Nel momento in cui ha cominciato a parlare di regione verde d'Europa, ha cominciato a parlare di un'economia diversa, di un'economia green, ha fatto delle scelte. Ci sono purtroppo delle sacche di resistenza legate all'economia antica del secolo scorso, ma quello che conta è che i cittadini devono decidere il proprio futuro.